Quest'anno il premio Nonino è ancora più significativo, si celebrano anche i 50 anni della rivoluzione della grappa, cosa ne pensa? E' una data simbolica molto importante, molto importante per la storia del Nonino e molto importante per il ruolo che il Nonino ha svolto nell'accendere delle luci sulle speranze e sulle crisi del nostro tempo, viviamo un tempo grammatico e il premio Nonino è un'occasione per accendere appunto una luce di coscienza nei confronti della crisi che vive la nostra terra, la nostra madre terra e anche la relazione fra i popoli umani nel pianeta, questo è il grande merito del premio Nonino. Grazie.